Il semplice caffè della mattina inizia a diventare difficoltoso perché comunque l'aumento delle bollette porterà a un aumento anche del consumo al bar. Beh, sicuramente. Noi dopo tanto tempo siamo stati costretti ad aumentare leggermente il prezzo del caffè perché effettivamente ci è aumentato tutto. A cominciare proprio dall'energia elettrica che da un importo di 4-500 euro al mese siamo arrivati a 8-850 euro al mese. Non solo il semplice caffè al bar ma anche forni, ristoranti e parrucchieri si trovano ad affrontare nelle ultime settimane la problematica dei rincari a partire da quella dell'energia elettrica con stime di aumento del 50-70%. Per non parlare della quarta ondata che con i suoi numeri elevati sta costringendo migliaia di persone a casa con la conseguente riduzione di richiesta. Si lavora diciamo al 60% di come si lavorava prima e questo ti va a ridurre ancora di più i tuoi guadagni se mai ci fossero. Queste difficoltà si vanno poi a riflettere anche sul tessuto sociale con tante aziende costrette a rincorrere la cassa integrazione o addirittura al licenziamento di dipendenti. Dopo saldi che ha fatturato zero, una condizione nella ristorazione dove c'è stato un lockdown da dicembre ad oggi che ha determinato un zero incassi. Insomma diciamo che in questo momento forse la condizione è ancora più critica di un anno fa. Sicuramente la ristorazione e i panifici piuttosto che la distribuzione organizzata, cioè quindi supermercati, hanno un'incidenza importante su questo problema. Proprio ieri abbiamo fatto una presidenza di Confesercenti dove abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di consorziarci anche con altre associazioni di categoria per l'acquisto di energia elettrica. Quali sono le vostre richieste? Ridurre il bolletto o almeno farci pagare quello che pagavamo prima. Non ci serve che ci danno i soldi, almeno ci danno la possibilità di guadagnare un minimo sul lavoro che facciamo.